Buongiorno a tutti, oggi siamo con la bellissima Alessia e prepariamo la pizza precisamente l'impasto per la pizza con due farine, olio, latte, acqua, lievito e un po' di sale dopodiché mettiamo a riposare per 24 ore dopo un 6 ore, 7, andiamo a rigirare l'impasto lo rigiriamo stasera, domani mattina e poi è pronto per essere stirato per le pizze accendiamo il forno a legno ovviamente e aspettiamo che sia pronto gli mettiamo qua il cattolagnetto stiriamo le pizze con Alessia e Emanuele che sta stendo al forno questa prosciutto, funghi, formaggio, pizza bianca furpitta capricciosa a breve in cottura e queste sono pronte consigliamo di tagliare le pizze con una forbice buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti